questo video deve iniziare per forza con una premessa verranno citati dei numeri non c'è alcuna attinenza con la realtà cioè questi numeri non riguardano nello specifico una fiera ma sono numeri di mia invenzione che butto lì così bla 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 a casa non li ho letti da nessuna parte da nessun documento sono di fantasia se per caso coincidessero con dei numeri reali allora sappiate che è un caso non c'è nulla di... cioè a fuori di dar numeri può essere che non è un caso allora parliamo dei numeri delle fiere perché? perché i numeri di visitatori delle fiere stranamente in Italia c'è il mal costume di dire che ha avuto 10.000 visitatori 15.000 ne hai avuti 15.000 30.000 ne hai avuti 88.000 138.000 e non si capisce perché ma lo andiamo a spiegare bene per punti quindi partiamo dal punto numero 1 la differenza tra i numeri commerciale, amministrativo, marketing, comunicazione nel commerciale e nell'amministrativo il numero 100 è superiore per esempio al numero 10 perché se io vado a comprare con 100 euro una tonnellata di mele con 10 euro non comprerò una tonnellata di mele numero maggiore vale più del numero minore chiaro? passiamo al marketing e alla comunicazione nel marketing e alla comunicazione il numero maggiore non è maggiore del numero minore perché entra in gioco non l'oggetto che compro cioè sto bicchiere non entrano in gioco i soldi e il bicchiere come l'amministrativo e nel commerciale ma entrano in gioco altri valori ovvero il target di riferimento e la dispersione e questi sono due elementi molto importanti esempio molto particolare in questo caso è vero esiste un telegiornale nazionale italiano che ha il quarto numero per telespettatori ma è quello che ha la più alta raccolta pubblicitaria e ha gli spot che costano di più in assoluto perché ha un target più qualificato e soprattutto ha meno dispersione va bene? ok questa è una piccola lezione chiunque abbia studiato marketing abbia studiato comunicazione lo sa numero due è inutile che una fiera dica oh io ho avuto 90.000 visitatori quando sono stati 40.000 perché? esiste una SIAE cioè la Società Italiana Autore Editori che pubblica certifica i dati e li pubblica è possibile consultare questo elenco? sì ma ci sono anche delle regioni che pubblicano il dato sul proprio sito quindi è perfino ad accesso ancora più facile quindi è inutile per esempio se io avesse avuto una fiera nel 2018 che ha fatto 88.000 visitatori così è inutile adesso invento a caso è inutile che dico che ne ho fatti 138.000 perché prima o poi la verità viene fuori e quando viene fuori la verità ai 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 poi che figuraccia ci fa quello che l'ha detto? anche perché se la SIAE dice un numero voi sapete che ogni biglietto c'è il bollino della SIAE nel momento in cui io dichiaro un numero è meglio che sia guarda quello della SIAE ma qual è il punto ridicolo di tutta la questione? che non è solo il fatto uno ci fa la figura un po' però c'è ben altro dietro e il ben altro lo vediamo subito ovvero il punto numero 3 quando si parla della valenza delle fiere facciamo un esempio se io in una fiera vendo 10.000 camper e la fiera in X giorni ha avuto 88.000 visitatori significa che il rapporto è 10.000 su 88.000 se in quegli stessi giorni però io dichiaro che ho avuto 138.000 visitatori il rapporto è 10.000 su 138.000 capite che il rapporto è più basso? il rapporto visitatore venduto è più basso? quindi io sparo un numero che mi sembra eh sì ma in realtà sto solo dimostrando che forse forse qualche lezioncina di marketing e comunicazione la dovrei andare a rifare forse forse qualche danno lo sto facendo dicendo questa cosa attenzione ai numeri che poi sul sito della SIAE si vedono alcune regioni li pubblicano e allora poi uno dice ma eh saluto grazie a tutti grazie a tutti